E' stato firmato giovedì 11 luglio il protocollo di intesa che avvia la riqualificazione della Basilica di Superga e porterà al potenziamento del suo valore culturale e sociale. Lo hanno firmato il soprintendente del Ministero della Cultura, Corrado Azzollini, la dirigente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Carmen Barbieri, il direttore regionale del Demanio, Sebastiano Caizza, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco della città di Torino e città metropolitana di Torino, Stefano Lorusso. L'obiettivo del protocollo è quello di avviare un processo di valorizzazione e rigenerazione urbana che ampli la fruibilità culturale e turistica della Real Basilica di Superga e che garantisca ricadute e impatti positivi, sociali ed economici, con particolare attenzione ai temi ambientali e dello sviluppo sostenibile. La strategia progettuale è basata su una ridistribuzione delle funzioni esistenti, residenziale e museale, con la razionalizzazione dell'uso degli ambienti accessibili. Il protocollo apre inoltre la strada a ulteriori collaborazioni pubblico-private per il finanziamento di altri interventi di valorizzazione. Un impegno importante che, come hanno sottolineato i firmatari, è stato reso possibile dal confronto e dalla collaborazione con il CERMIG, Fraternità della Speranza, che dall'agosto del 2021 gestisce la Basilica. Il confronto costruttivo degli ultimi mesi sul futuro della Basilica di Superga ha portato anche allo stanziamento di 15 milioni di euro, 9 milioni già assegnati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e 6 milioni dal Ministero della Cultura per la requalificazione di tutti gli ambienti esterni e interni della Basilica.